Grazie Presidente, si tratta di un ordine del giorno che vede il rafforzamento di un'attività che già è stata portata avanti nel corso di questi anni e soprattutto anche in accoglimento di quelle che sono le indicazioni del Consiglio del Municipio VII che ha espresso parere favorevole alla proposta in quanto all'interno della proposta di delibera in esame oggi all'Assemblea Capitolina si parla ovviamente all'interno del piano di valorizzazione anche dell'edificio dell'immobile che era della ex Filanda, prima centro di accoglienza e il ponte che si trova su Viale Castrense 51-51A e il Municipio ha richiesto anche per quanto riguarda i beni ricadenti nel Municipio e in particolare in Viale Castrense che potrebbero anche altri edifici essere presi in considerazione per il loro utilizzo e valorizzazione. A fronte di questo voglio ricordare che era stata portata avanti un'attività di esame, di analisi di quella che è la mobilità su quel territorio appunto tra San Giovanni e Viale Castrense che è sicuramente una zona ad alto intensità insomma dal punto di vista di traffico e che quindi era stata oggetto di un approfondimento anche da parte della Commissione Mobilità nel 2017 proprio per ragionare su come ridisegnare la mobilità in quel quadrante. Proprio quindi per questo motivo da una parte abbiamo quindi l'intervento di valorizzazione per quanto riguarda quindi la ex Filanda, dall'altra gli interventi legati alla mobilità e dall'altra ancora la possibilità quindi di ulteriori interventi sui mobili nell'area di Viale Castrense o comunque l'Imitrofa e per questo motivo quindi abbiamo voluto rafforzare quell'osservazione che è stata rappresentata quindi all'Assemblea Capitolina da parte del Municipio con l'istituzione di un tavolo tecnico tra le strutture capitoline competenti quindi in materia di mobilità, patrimonio urbanistica e la sovrintendenza con il Municipio Settimo finalizzato proprio a coordinare tutti gli interventi che insistono in questo momento su Viale Castrense. Grazie Presidente.